Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio per quanto riguarda i consigli di fantacalcio e oggi andremo a parlare dei nuovi arrivi in questa serie A. Sì perché ragazzi ci sono, come vedete alle mie spalle, dei nomi molto interessanti. Io ho fatto un campetto solo per fare il punto della situazione, sarà un video molto veloce perché ovviamente le trattative vanno avanti e finirà il mercato proprio e la sessione di calcio mercato il 30 di agosto. Di conseguenza mancano ancora tre giorni, tante trattative ancora sono in corso, di conseguenza per il momento diamo solo le ufficialità e coloro che rientrano o arrivano nel nostro campionato. Per noi fantallenatori è importante sapere come gestire determinati nomi a seconda anche dell'allenatore, quindi ora andremo a parlare dei nomi che ci sono in questa formazione. Secondo me si parte dalla porta con un portiere comunque di qualità nonostante vada nel Monza, nonostante comunque sia un portiere giovane, è un estremo difensore che ha esperienza nel nostro campionato, viene dal Frosinone. Quindi nel Monza farà con molta probabilità il titolare e lui si può prendere come ultimo slot o comunque si può prendere in un'alternanza dei portieri 2 più 1 come avete visto anche nelle alternanze che abbiamo fatto anche nei mesi passati per esempio con la Lazio. Quindi possiamo gestirlo in questa maniera e potrebbe essere un buon portiere, ve lo ripeto, lo cost da ultimo slot da mettere lì e quando il Monza gioca le partite più tranquille o partite più semplici lo possiamo schierare e buttare dentro. Poi passiamo anche alla linea difensiva perché ovviamente io ci ho rimesso Quadrado ma Quadrado non è un nuovo arrivo ma sicuramente lo è perché arrivando nell'Atalanta e avendoci davanti uno come Raul Bellanova sicuramente è un nuovo arrivo a tutti gli effetti perché comunque si alterneranno. Zappacosta da destra si sposta a sinistra e quindi con molta probabilità sarà il vice di Ruggeri o si alterneranno loro due quindi Quadrado ragazzi da ultimo slot andatevelo a prendere mettetevelo lì e soprattutto fate la coppia con Bellanova qualora aveste l'ex Torino perché avendocelo potete gestire meglio anche l'ex esterno Granata perché comunque avrà la titolarità Quadrado soprattutto nelle partite facili e nelle partite durante la settimana o se c'è qualche torno infrasettimanale o se l'Atalanta e quando l'Atalanta giocherà la Champions League quindi ragazzi un Quadrato tenetevelo lì buono e magari pagatelo uno o due crediti e state lì con l'ultimo slot dell'ex Juventus perché ragazzi potrebbe essere veramente molto interessante il Panita poi ditemelo anche nei commenti qui sotto se ci punterete o no e se proverete a rifare o a fare anzi la coppia Atalanta Poi Borna Sosa molto interessante esterno di sinistra eventualmente all'occorrenza proprio dovesse esserci qualche problema può giocare anche a destra ma secondo me Lazzaro sarà l'esterno proprio del Torino che ha più qualità e ha una voglia matta di farsi vedere Quindi da questo punto di vista poi con le ultime parole di Vanoli il Torino ha ceduto Bellanova senza neanche passare dal mister ecco questa è una situazione non molto tranquilla in casa Granata però gli esterni sono arrivati ed è molto interessante Arriva dall'Ajax Borna Sosa è uno che dribbla è uno che scatta è uno che punta all'uomo è uno che ha qualità ti può portare degli assist e anche lui come dicevamo ovviamente per forza di cose di quadrato È un ultimo slot ma che può diventare all'occorrenza durante la stagione anche un quarto o quinto a seconda se avete o no il modificatore Quindi fateci caso guardate di andarlo a prendere con una percentuale bassa ragazzi non spendete oltre il 2-3% ma siamo già alti Poi comunque andate a vedere tutte le fasce su Fanta Love perché sono uscite sono aggiornate tutte le fasce dei giocatori a seconda anche della Lega e dell'asta che farete e con i crediti che avrete Quindi andate a vedere però Borna Sosa a me intriga tantissimo perché potrebbe essere veramente una valida alternativa nella vostra difesa e come ultimi slot di reparto da mettere in un 4-3-3 in un 4-4-2 Eventualmente in un 5-4-1-5-3-2 se avete bisogno degli ultimi difensori perché magari siete corti o avete problemi con i centrocampisti e con gli attaccanti Quindi ragazzi Borna Sosa ottimo giocatore su cui puntarci, spendere poco e che ti può portare degli assist e dei bonus sporadici ma interessanti Ovviamente sarà difficile intercettare i suoi assist o comunque i suoi buoni voti perché a seconda della difesa che avete costruito può essere più o meno interessante Però io ragazzi soprattutto se non avete modificatore andatelo a prendere perché sarà titolare e perché secondo me porterà tanti buoni voti Poi passiamo ad Emerson Royal che diciamo al suo esordio è stato un po' così e così, ha preso un 4-5 se non ricordo male, 5 più l'ammunizione quindi 4-5 Sicuramente il suo prezzo calerà durante le aste soprattutto di settembre però è un ottimo terzino ragazzi di spinta sa fare anche molto bene la fase difensiva ma con Fonseca che predilige le azioni offensive laterali e quindi il gioco molto largo Uno come Emerson Royal con le sovrapposizioni e con il gioco e con le ali che ha il Milan può fare veramente bene Ora lo pagherete sotto prezzo perché è un nuovo arrivo e perché ha già fatto male quindi il bias cognitivo dei fanta allenatori medi è lasciamolo stare lì perché è un bidone No ragazzi proviamolo a prendere, mettiamoli tra gli ultimi slot e anche qui un po' come Borna Sosa piuttosto che Quadrado Si può schierare poi a lungo andare durante la stagione verso il quarto o quinto slot a seconda di come avete costruito il vostro reparto difensivo Poi se volete potete rischiare anche una coppia con Calabria ma io non ve lo consiglio, non è come Quadrado e come Bellanova Questo è più un ballottaggio molto più difensivo con un raggio d'azione molto più arretrato rispetto a Quadrado e Bellanova Di conseguenza io vi dico lasciate stare Emerson Royal Calabria, c'è la coppia e prendete o l'uno o l'altro Centrocampo, ecco qui ci sono dei nomi veramente molto interessanti, molto intriganti e io comincerei dal nuovo arrivo in Casa Como da Fabregas Che è molto interessante, Nico Paz è un centrocampista che arriva da Real Madrid, gioca praticamente sulla tre quarti Guardiamo se poi il tecnico spagnolo cambierà qualcosa oppure no, però ragazzi è un giocatore giovanissimo che ha possibilità veramente di fare bene È un dribblatore, è uno che punta all'uomo, è uno che ha visione di gioco, quindi vuol dire che il Como ha tanta difficoltà a costruire e soprattutto a finalizzare Uno come lui, soprattutto nelle partite più semplici può farvi la differenza perché lo mettete lì come quarto, terzo, quarto o quinto slot a seconda del modulo con cui giocate Però lui all'inizio parte dietro nelle gerarchie ma vi assicuro che può prendersi il posto da titolare e può scalzare veramente tutti i giocatori che ci sono nel centrocampo del Como Anche perché detto tra noi non c'è tantissimo, anche Verdi è in panchina per esempio, uno come Paz può fare veramente molto bene Io lo andrei a prendere, andate a vedere il costo nelle mie fasce, se siete abbonati, se no abbonatevi qui sotto al canale E poi riscattate su Fantalab tutte le fasce e vedete come l'ho messo, in che fascia l'ho messo e soprattutto quanto ci si può andare a spendere Però lui è un trequartista ragazzi, quindi ha tutte le caratteristiche per tirarvi da fuori, per farvi assist, per prendervi dei buoni voti Quindi per me è da prendere, poi guardate, valutate voi e soprattutto guardate chi dovete svincolare se avete già fatto l'asta Oppure se lo dovete prendere da subito, chiamatelo magari tra gli ultimi nomi, cioè se dovete fare l'asta Non andate a chiamarlo tra i primi perché magari qualche fantallenatore lo conosce o ne ha sentito parlare E di conseguenza uno o due crediti non lo pagherete più, magari lo andate a pagare anche l'1 o il 2% Quindi state attenti anche da questo punto di vista Neres il top di questa formazione possiamo dire così forse insieme a Nico Gonzalez Ma Neres è sicuramente il top anche per il ruolo perché sarà centrocampista, è centrocampista e però giocherà praticamente nella linea 3 lì davanti della formazione di Antonio Conte Per me, anche per come ha giocato alla prima con l'esordio che ha fatto, scalza Politano Cioè per me può scalzare Politano, Politano non è neanche tanto ben visto proprio da Conte E quindi per me Neres è uno che ti spacca in due la partita È uno che anche se entra nell'ultima mezz'ora fa la differenza ma te la può fare anche dall'inizio E visto che le caratteristiche di questi giocatori a Conte piacciono Neres ragazzi pagatelo, cioè andate a pagarlo anche 1 o 2 punti percentuali in più nella vostra asta Però andatelo a prendere perché è il top, è uno dei top di reparto Anzi io ora lo metto come semi top perché voglio ancora vedere il ballottaggio tra Politano e Neres Ma vi garantisco che questo giocatore è veramente forte, lo avete visto È uno che arriva fino alla linea di fondo, crossa nel mezzo È uno che dribbla, punta all'uomo È uno che ti crea superiorità numerica ed è quello che vuole Conte Anche perché ora arriverà Lukaku e di conseguenza uno come Neres Che ti punta all'uomo, ti sgattaiola, anzi sgattaiola scusate Tra gli avversari e poi ti crossa nel mezzo e ti mette una ciliegina proprio da insaccare E uno come Lukaku ci va a nozze Quindi per me Neres sarà veramente un semi top che passerà poi nella fascia top Tra forse un mesetto Quindi ragazzi uno come lui puntateci, magari puntateci anche forte e non fate la coppia Politano Neres io ve la sconsiglio perché comunque sarebbe un grattacapo Sarebbe uno slot sprecato Se avete già Politano tenetevi Politano e magari guardate un attimino come va la situazione E poi magari Politano può essere una buona pedina di scambio Ma non andate a confondervi o a fasciarvi il cavo Con Seisao, giocatore fantastico, almeno dai numeri e arriva dal porto Giocatore giovanissimo, 21 anni E' uno che dribbla tantissimo Li piace molto dribblare, molto puntare l'uomo Pensate che nella Liga Spagnola, faccio un esempio Uno come Vinicius ha una media dribbling a partita di 11.5 Quindi 11.5 Pensate con Seisao, nonostante la giovane età e come Vinicius più o meno E' uno di quelli che dribbla a partita 11.9 In più è un crossatore Quindi è uno che va verso la linea di fondo Ti crossa o comunque tendenzialmente fa anche i movimenti a rientrare Quindi è uno di quelli che piace tantissimo a Tiago Motta Alle caratteristiche che piace all'ex tecnico del Bologna E quindi con Seisao arriva per 7 milioni Che potrebbero diventare poi 3 in più A seconda di determinate situazioni durante la stagione Per me con Seisao verrà veramente utilizzato tanto Soprattutto a sinistra, non tanto a destra Dove ci sono Nico González e Timotiwea Ma a sinistra dove c'è un po' più di carenza Dove ci sta giocando il Diz Dove ci sta giocando un Bangula Quindi con Seisao si alternerà Non pensate che sia da subito un titolare Perché avete visto Tiago Motta E' uno di quelli che dà chance un po' a tutti Quindi con Seisao mettetevelo lì Prendetelo e poi dopo valutate a seconda del vostro centrocampo Magari nelle partite più semplici O quando la Juventus giocherà la Champions League Mettetelo dentro perché le sue chance ce l'avrà E vi garantisco che è un giocatore formidabile E può essere un affare nascosto Perché alcuni dicono Eh vabbè ma lì in quella posizione c'è il Diz C'è il Bangula Anche se sono attaccanti Lui è centrocampista Però lasciamo stare Non ci andiamo a spendere E lì dovete subentrare voi E dovete andare a prendere un giocatore Del calibro di Con Seisao Che comunque può fare veramente molto bene Con lo stile Con il gioco di Tiago Motta Iling Junior Parlando di Bologna Visto che parlavamo dell'ex tecnico dei Felsinei Iling Junior arriva dalla Juventus Cioè nel senso non arriva dalla Juventus Arriva dalla Premier League Ma è un ex Juventus E vi garantisco e sapete che sulla corsia di sinistra Il Bologna ora non ha niente Perché ha solo Carlson Ndoia si è fatto male per tre settimane Quindi rientrerà dopo la pausa delle nazionali Non c'è più Cambiaghi che si è operato E quindi Iling Junior in questo momento È il titolare almeno per le prossime due partite Cioè la terza giornata E poi guardiamo la quarta Come è messo anche appunto come vi dicevo Ndoia Però Iling è uno di quelli che sa fare la differenza Anche lui molto veloce, molto rapido Lo abbiamo visto e lo abbiamo conosciuto proprio con la Juventus Predilige la corsia preferenziale Piuttosto che fare il movimento a rientrare E a tagliare l'area di rigore O meglio arrivare in zona tiro al limite Lui preferisce andare a tutta corsia A tutta fascia E vi garantisco che secondo me nel Bologna Conoscendo un po' italiano E conoscendo lo stile di gioco Dell'ex tecnico della Fiorentina Può essere un ottimo nome da mettervi lì Al centro campo Anche qui per le partite più semplici del Bologna E da schierare per dei cross O comunque degli assist E quindi dei bonus Intriganti Provateci Perché Iling Junior secondo me Non andrà neanche a tanto Nelle aste di settembre Però non fate la coppia Come vi dicevo anche per altri tipi di giocatori In questo video Iling Junior Secondo me è uno slot sprecato Perché comunque il Bologna Darà possibilità di ballottaggio Darà la possibilità a tutti Di giocare su quella corsia di sinistra Soprattutto Iling e appunto Iling Non andate a fare una coppia del genere Perché vi bruciate uno slot E non avete modo poi dopo di Neanche scambiarlo Perché non so quanti Andranno poi con i ballottaggi in corso A prendere o l'uno o l'altro Quindi voi andatevi a prendere Iling Se qualcuno ha Giandoi Lasciatelo stare Non andate a chiederlo E quindi attenzione a questo tipo di giocatore Concludiamo con gli ultimi tre nomi in attacco Faccio rapidissimo e veloce Perché due su tre Anzi tre su tre Già le conosciamo Nico Gonzalez Ottimo attaccante Giocherà sulla fascia destra Nel centrocampo O comunque nella zona offensiva Sarà sempre in ballottaggio con Timo Tiwea La Juventus ha la Champions League Quindi lui ha la possibilità di giocare Spesso e volentieri È stato in questi ultimi anni Sempre un po' acciaccato Quindi non pensate che faccia 32-33 partite Nico Assolutamente no Però come terzo Quarto slot d'attacco Può essere molto intrigante Da comprare Da acquistare Da prendere O anche da chiedere negli scambi Però ragazzi Nico è uno di quelli Che può giocare a destra O a sinistra Con Seisao Ritornando al discorso di prima È uno che può giocare Anche sulla sinistra Però secondo me Tiago Motta Sposterà Nico Gonzales A sinistra In alcune situazioni E con Seisao Lo terrà a destra Guardiamo se effettivamente sarà così O se magari mi sbaglierò Però c'è tante soluzioni Ora Tiago Motta Lì davanti Con gli esterni E con le ali Quindi per me Alcuni cambiamenti Ci possono essere E Nico Gonzales A piede invertito Sulla corsia Di destra Diciamo che È molto bravo Sulla corsia di sinistra Invece nella sua corsia Tipica per i mancini Chiamiamola così È uno di quelli Che comunque Gioca bene lo stesso Quindi Tendenzialmente Ragazzi Nico Si può andare a prendere Senza spenderci troppo E non vi aspettate Tante partite Da titolare Nel senso Non vi aspettate Che sia il titolare Inamovibile Della Juventus Perché la Juve Ha da giocare Tante partite Tra Coppa Italia Tra Champions Tra Supercoppa Quindi C'è un po' di turnover E molti ballottaggi Con Nico Quindi non andate A strapagarlo Ma anzi Vi dico Cercate di pagarlo Il giusto E non sforate La percentuale Che vedete Nelle mie fasce Pinamonti Qui io ci punto Perché è rigorista E ci punto anche forte Perché in questo momento Pinamonti e Vitigna Possono anche Possono anche Coesistere Quindi possono giocare insieme Mentre Rebic Può essere Un buon ultimo slot Nel Lecce Visto che lì davanti Il Lecce A parte Christovic Non ha tantissimo Lui ha 30 anni Ha tanta voglia di fare Ha esperienza Nel nostro campionato E quindi Se riuscita Ad intercettare I suoi bonus Possono essere Veramente interessanti Con Pinamonti Non ho più niente da dire Così come Rebic Perché ovviamente Sono giocatori Che si possono mettere lì Come terzi slot A ruotare Quindi Rebic È un quinto Sesto slot Pinamonti È tranquillamente Un terzo slot Perché è un rigorista Nel Genoa Gilardino Gilardino Lo chiamerà Tanto in causa E sarà molto Sollecitato Quindi Pinamonti Ragazzi Io lo vedo Come un bel terzo slot Magari lo pagherete Un po' di più Però va preso Va preso Perché è uno di quelli Che vi può fare A lungo andare La differenza Nella vostra Fantasquadra Io vi ringrazio Per il momento Per essere stati con noi Non ci saranno tagli In questo video Proprio Perché vi voglio Spiegare il mio punto di vista Per il calciomercato Spero di essere stato chiaro E soprattutto Se volete video del genere E altri video In questa maniera Lasciate like Iscrivetevi E attivate la campanella Perché noi ci vediamo Domani Proprio per Tutte le partite Analisi Gara per gara Con i miei indici Di schierabilità Ciao ragazzi